In casa del nipote nessuna traccia di sangue. E l'esito dell'esame effettuato dai tecnici dei carabinieri nella veletta di Claudio Borgarelli, l'indagato per l'omicidio e la decapitazione di Albano Crocco, trovato cadavere e decapitato la settimana scorsa nei boschi di Craviasco, nel comune di Lumazzo. Ho bevuto per festeggiare, operaio travolto e ucciso in cantiere ieri sulla 12 trastestervante d'Eva Marina. Arrestato l'automobilista, positivo all'alcol test, dovrà rispondere di omicidio stradale. Pendolari rilevante contro la regione, in una lettera indirizzata al presidente Totti e all'assessore Berrino, il comitato scrive che manca la volontà politica per risolvere i problemi dei pendolari sacrificabili perché si preferisce servire meglio altre località. Buonasera dal TG Tguli, apriamo nuovamente come spesso ultimamente accade con il delitto di Craviasco nel comune di Lumazzo, in casa del nipote non ci sono tracce di sangue. Vediamo. L'esame effettuato dai tecnici dei carabinieri nella villetta di Claudio Borgarelli, l'indagato per l'omicidio e la decapitazione di Albano Crocco, trovato cadavere con la testa mozzata la settimana scorsa nei boschi di Craviasco nel comune di Lumazzo, ha dato esito negativo. Nelle camere e nel bagno dell'abitazione, gli accertamenti con i raggi infrarossi effettuati dai carabinieri della sezione dei rilievi non hanno evidenziato tracce di sangue. L'ultima parola, in fatto di prove biologiche, spetta agli specialisti del RIS di Palma che stanno analizzando le armi, pistole, coltelli e tutti gli altri reperti sequestrati nell'abitazione dell'indagato. Decisivo potrebbe risultare lo stub che proverebbe se il nipote di Crocco abbia o meno usato di recente armi da sparo. Analisi accurate sono state svolte anche sul cadavere di Crocco per verificare se ci sono tracce biologiche che possono portare al DNA dell'assassino. Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari a Prato sopra la croce nel comune di Borzonasca a causa di un'automobile avvolto dalle fiamme. Il rogo avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri è stato causato probabilmente da un cortocircuito. Fortunatamente il fuoco non ha coinvolto altre vetture. Ho bevuto per festeggiare il fatto che diventerò padre di due gemelli. Addio, l'uomo è risultato positivo al test dell'alcol che ieri sera ha travolto e ucciso sulla A12 tra Sesto Elevante e Eva Marina, un operaio di 60 anni di Massa Carrara che stava segnalando la presenza di un cantiere. È stato arrestato per omicidio stradale l'uomo che ieri pomeriggio attorno alle 18 a bordo di un Apollo ha travolto e ucciso Umberto Andrea Leone, l'operaio di 60 anni di Massa Carrara che stava segnalando un cantiere sulla A12 tra Sesto Elevante e Eva Marina. Si tratta di Biagio Cappiello, originario di Altamura, provincia di Bari e residente a Carrodano, in provincia di La Spezia, che era ubriaco al volante. Ieri era stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna in stato di shock. Agli agenti che gli hanno notificato l'arresto, il 35enne ha raccontato di aver bevuto per festeggiare l'essere diventato padre di due gemelli. Sul posto era giunta la polizia stradale di Brugnato, medici e ambulanze del 118. I vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari sono intervenuti attorno alle 10 di questa mattina per una presunta fuga di gas presso la scuola elementare di Piani di Ria Chiavari. Fortunatamente però si è trattato di un falso allarme, i pompieri, i tecnici infatti non hanno riscontrato anomalie. Il comitato dei pendolari del Levante Ligure sul piede di guerra ha lettera indirizzata alla regione e in questa lettera viene detto manca la volontà politica per risolvere i problemi dei pendolari. Vediamo. Non c'è la volontà principalmente politica di trovare una soluzione concreta. È uno stralcio della lettera che il comitato dei pendolari del Levante Ligure ha inviato al presidente della regione Ligure a Giovanni Toti e all'assessore regionale Trospotti Giovanni Berrino per lamentare che le istanze presentate non vengono prese in considerazione. Rappresentiamo centinaia di utenti, si legge nella missiva scritta dal comitato che sostiene come la regione ritiene più importante mantenere il sistema cadenzato così come è stato realizzato che garantire un servizio decente a tutti i cittadini contribuenti. Qualcuno deve prendersi la responsabilità, si conclude in questa maniera la lettera, di dire chiaramente che i pendolari del Levante sono considerati i sacrificabili perché si preferisce servire meglio altre località. Sono scelte politiche e la politica deve prendersi questa responsabilità. E adesso un fatto di cronaca che vede i protagonisti tre settantenni, due carnefici e una vittima. Perché i carabinieri di Rapallo e Santa Margherita Ligure hanno tratto in arresto, in flagranza di reato due genovesi di 71 e 75 anni con pregiudizio di polizia. All'interno di un bar infatti due anziani avevano derubato dell'intera pensione appena ritirata un loro coetaneo di 70 anni. E adesso parliamo di solidarietà, di beneficenza. Il comitato San Marziano di Carasco si è recato sabato scorso ad Amatrice. Sabato scorso una piccola rappresentanza del comitato di San Marziano si è recato nel Lazio per consegnare il ricavato del pranzo per Amatrice che si è svolto il 23 settembre a Carasco. La cifra raccolta è stata di 4.000 euro ed è stata suddivisa in due parti. La prima di 2.000 euro consegnata direttamente nelle mani del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. La restante parte è stata invece suddivisa in cinque buste contenenti ciascuna 400 euro da donare ad altrettante famiglie o persone bisognose di aiuto. Dopo circa sei ore di viaggio il gruppo è arrivato a destinazione e dato che l'appuntamento con il sindaco era nel taglio pomeriggio hanno iniziato a distribuire le buste alle persone individuate grazie all'aiuto di una volontaria che era già stata diverse volte ad Amatrice. La prima busta è stata consegnata da Adele, ragazza colpita dal terremoto e malata di Sla, la quale insieme alla sua famiglia ha perso la propria abitazione ed è costretta nonostante la malattia ad abitare insieme ad altre cinque persone in una casa mobile nell'allevamento di pecore del marito. La seconda busta ad Antonio, un fattore di Amatrice che ha perso la fattoria nel terremoto e per stare vicino agli animali che gli sono rimasti ha deciso di vivere in una tenda nel suo terreno in attesa dell'agibilità della sua casa, per fortuna non è andata distrutta. La terza busta è Martina, una ragazza che frequenta l'università che nel terremoto ha perso tutta la sua famiglia oltre alla casa. La quarta busta ad Emilio, gestore di un supermercato crollato durante il sisma e dato che è riuscito a salvare il suo furgone, ha deciso di portare con i soldi a lui donati aiuti alimentari a tutti coloro che hanno bisogno nelle varie frazioni colpite dal terremoto. Nel pomeriggio, guidati dai vigili del fuoco, operanti ad Amatrice, è stato possibile fare un giro nella zona rossa del paese per rendersi veramente conto degli effetti disastrosi del terremoto. Per l'ultima busta da consegnare i ragazzi hanno dovuto spostarsi il giorno dopo ad Aquila, in quanto alcune famiglie sono state trasferite lì negli alloggi ormai liberi creati per il sisma del 2009. Qui hanno potuto incontrare Angelico con i suoi due bambini rimasti orfani del padre a causa del terremoto e unica fonte di sostentamento della famiglia. Quello che vogliamo fare è ritornare su un evento che è qualcosa in più che una serata da trascorrere insieme al Teatro Cantero. ha due aspetti importanti, chi la promuove, che è il Comitato per la Verità su Regeni e chi la realizza in realtà. Barbara Possagnolo è, diciamo così, il referente artistico di questa serata, nonché probabilmente coordinatrice, mi correga se sbaglio, dell'evento. Quindi parliamo di Sabato 22, parliamo di Teatro Cantero, parliamo di una serata da trascorrere insieme. Con quale scaletta? Allora, inizieremo con i ragazzi e finiremo con i ragazzi. Prima i ragazzi delle scuole comprensive di Chiavari che faranno proprio un tre minuti di musica e finiremo con i ragazzi di Arquata che parleranno della loro esperienza, nonché i Riviera Massive che sono una band hip hop. Nel mezzo ci sarà, devo dire la verità, il Gotha, molti artisti molto bravi e importanti del nostro territorio. Avremo i fratelli Nastos per quello che riguarda la musica classica, dopodiché avremo un blocco di cantautori, De Bastiani, Napo e il pianista Vulpani, Giua, il maestro Corsi e Roberta Loisio e finiremo con un gran botta finale, speriamo che tutti un po' anche note oltre la notte perché vogliamo portare un segnale di speranza oltre la brutta notte che è stata quella del terremoto. Finiremo con Guitar Ray and the Gamblers e il loro blues e avremo Dado Moroni in trio per il jazz e se riuscirà ad arrivare da Bratislava, dove è in tournée, ma penso che la metterà tutta il maestro Rava. Ecco, questo è un parterre di artisti che chiaramente darà a ciascuno, in base a quella che è il proprio gusto musicale, un modo per rimanere al cantero ad ascoltare. Come arrivare al cantero? Vale a dire, è un'offerta libera, l'abbiamo forse già ribadito col presidente Lavarello, ma dove recuperare i biglietti? Allora, innanzitutto ci sono varie persone del comitato Reggeni che stanno distribuendo gli inviti, gli inviti donazione, poi sicuramente presso le filiali del Banco di Chiavari e la giornata stessa ci sarà aperto qui da noi per poter fare le donazioni. Ripeto, è un ingresso libero, chiediamo una piccola donazione. L'ingresso, cioè la biglietteria, voglio dire, lo sbigliettamento, non saprei usare il termine? No, ma da che ora? Dalle 7 si potrà accedere presso il cantero, chi vuole riservare il suo posto con qualche invito lo può fare. Cosa realizzerete al di là di quello che è l'aspetto economico, chiaramente? Ma noi quello che stiamo cercando di fare, poi lo dirà meglio di me chi è proprio del comitato Reggeni, ecco volevo dire una cosa importante che hanno partecipato gli operatori dello spettacolo del Tiguglio a questo evento, artisti, altri miei colleghi che verranno comunque ringraziati anche pubblicamente e tecnici che si sono messi a servizio. Durante la serata avremo anche dei contributi video che riguardano le zone che sono state colpite dal terremoto e noi andremo a realizzare, speriamo di raccogliere tanti fondi, un centro di aggregazione giovanile proprio ad Arquata, giovanile per anziani. Roberto Pettinaroli, responsabile della redazione del Levante per quanto riguarda il secolo XIX, patrocinatore della serata ma in doppia veste perché è anche un componente del comitato per la verità su Reggeni. Una serata dal duplice risvolto, chiaramente quella di mantenere l'attenzione alta su quello che è il comitato che lei rappresenta, oltre che poi essere una serata con finalità benefica. Sì, diciamo che le finalità sono molteplici. Tanto la soddisfazione di aver offerto una serata di grandissima musica, di grandissimo spettacolo ai chiavaresi. Io credo che raramente si sia riusciti a concentrare tanti artisti di così alto profilo in un'unica serata e questo è già un primo risultato. Secondo, quello di aver fatto in modo che, unendo le figure di Giulio Reggeni e di Ilaria Alpi, perché il concerto è patrocinato anche dall'Istituto Comprensivo Chiavari 2, che proprio quella mattina intitolerà la scuola media a Ilaria Alpi. Ecco, l'accostamento fra queste due figure, due ragazzi che hanno sacrificato la loro vita facendo il loro mestiere, facendolo bene e cercando delle verità scomode, credo sia un messaggio molto forte anche dal punto di vista formativo ed educativo per i nostri ragazzi. E poi, appunto, la finalità vera e propria è quella di cercare di raccimolare la somma più alta possibile per contribuire in maniera determinante a realizzare il centro civico e aggregativo di Arquata del Tronto e credo che se il Tiguglio, unito, unendo le forze anche di altre iniziative analoghe che sono state prese in questa settimana e negli altri comuni, riuscisse veramente a costruire per intero questo centro civico, sarebbe un grande risultato. Questa mobilitazione, se possiamo chiamarla in questo modo, che prevede anche il patrocinio e il contributo del Banco di Chiaveri, lo ricordiamo dal momento che sarà un luogo dove reperire gli inviti, è una serata che parte da eventi, diciamo così, di dolore in qualche modo, che però vengono vissuti in una serata di divertimento e di riflessione. Ma sicuramente sì, intanto credo che sia bellissimo il messaggio per il quale attraverso la musica si può ripartire e ricostruire. Poi la musica è un fattore unificante e quindi il fatto che una comunità lontana come quella di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, sia sostenuta dalla nostra comunità, è anche questo un segno che la musica appunto unisce e abbatte le frontiere, questo è molto bello. E poi credo che appunto la coesione di un territorio, io lo dico sempre, credo che questa cosa la facciamo un po' anche per noi, per riscoprireci comunità solidale, per riscoprire dei valori che purtroppo tendiamo spesso oggi a dimenticare e cioè che ci sono anche gli altri, c'è anche chi ha avuto più sfortuna di noi, più sofferenze di noi e quindi è giusto mobilitarsi per dare una mano. Musica di diversa estrazione, quindi per diversi gusti e quindi anche, voglio dire, l'invito è rivolto a delle fasce di età che sono a 360 gradi. Assolutamente sì, perché si va dal blues e dal jazz con artisti veramente di altissimo profilo per arrivare all'hip hop dei Riviera Massive che fanno impazzire i ragazzi, quindi direi che veramente ce n'è per tutti i gusti. Dottor Paolo Sanguinetti, direttore del Banco di Chiaveri, in prima linea, come sempre, quando si parla di solidarietà e di sensibilità di questo territorio? Sì, una volta tanto parliamo bene delle banche. No, è una bellissima iniziativa, come tutti gli anni ci siamo trovati intorno a un progetto comune, noi come banca, ma il comitato territoriale della banca stessa e anche i dipendenti che è la parte diciamo più importante perché alla fine i nostri colleghi sono abituati e sono pagati per vendere carte di credito, bancomat e conti correnti. Qua invece gli chiediamo uno sforzo per vendere, passatemi in termini anche se non è quello più appropriato, questi biglietti per questo concerto, per un'iniziativa che è assolutamente meritoria. Si parla della possibilità di far convergere diverse iniziative di questo territorio per poi promuovere un centro sociale nei luoghi dove è successo il terremoto. Che cosa pensa di questa iniziativa e se in qualche modo rappresenta un po' lo spirito col quale avete patrocinato e contribuito alla serata? Sì, l'idea è esattamente questa, al sogno un po' questo, di non perderci in tanti rivoli e quindi di rischiare che le varie idee che sono state messe in campo e le varie raccolte fondi di piccole e medie che sono state messe in campo sul nostro territorio possano insieme a questa che è la manifestazione un po' clou, convergere in un unico effettivo programma e progetto che è quello di creare un centro, un dopo scuola, un dopo lavoro per anziani e per giovani in un posto che ormai non ha più nulla purtroppo. Un'iniziativa quindi che converge con il territorio e con lo spirito della banca che è vicino appunto al territorio stesso. Che tipo di presenza sarà la vostra quando si ricomincia dalla musica come si suol dire? Certo, allora la prima presenza è quella della banca che ha dato un contributo per l'organizzazione della manifestazione ma al di là di tutto poi c'è l'idea è nata da questo comitato Regeni che ha contattato il nostro comitato territoriale della banca, tutti i singoli componenti si sono battuti per questa iniziativa, vorrei anche dire che hanno devoluto il loro gettone di presenza che la banca chiaramente riconosce a loro e quindi anche un segnale tangibile di questo grande sforzo che hanno fatto queste sette persone che compongono il nostro comitato e poi attraverso appunto il comitato e attraverso la rete commerciale cerchiamo di ottenere un sostegno da parte delle persone che verranno con un nostro biglietto di invito diciamo particolare a vedere il grande spettacolo di sabato. Ricordiamo che siete a disposizione anche per la consegna di questi inviti giusto? Ovviamente sì, la rete ha chiunque può venire agli sportelli a ritirare l'invito ovviamente sperando anche in un obolo da tenere per questa bellissima iniziativa. Il consigliere delegato ingegner Marco Rocca è qui per promuovere un'iniziativa più ti informi meno rischi, un'ulteriore disponibilità verso la cittadinanza un'ulteriore iniziativa perché ci si possa proteggere nel miglior modo dati gli eventi che abbiamo visto anche nei giorni scorsi sono davvero preoccupanti. La preoccupazione c'è stata ad esempio proprio di recente con la prima allerta rossa che ha anche portato numerosi danni, grazie a Dio non così ingenti come ci si poteva aspettare ma comunque importanti, purtroppo grazie al vento che ha picchiato forte di scirocco ha creato non pochi problemi. E noi vogliamo come amministrazione di Chiavari, col sindaco e con tutta l'amministrazione indire questo convegno, l'appuntamento è per giovedì prossimo 20 di ottobre dalle 18 all'auditorium di Chiavari in pieno centro storico, ci sarà la possibilità di informarsi quindi i cittadini che parteciperanno con l'ingresso libero, anzi vi aspettiamo numerosi avranno la possibilità di sentire di che cosa si tratta quando si parla di alerta rossa, alerta arancione alerta gialla, ci sarà l'assessore regionale Gianpedrone che specificherà questa novità da solo un anno che vige su tutto il territorio regionale e quindi anche su Chiavari ci sarà la possibilità di sentire un ingegnere dell'ARPAL che ci spiegherà come viene divulgata l'allerta, come nasce un allertamento, poi ci sarà la possibilità anche di affrontare l'argomento ordinanze, le nuove ordinanze sindacali aggiornate al 2016 che riguardano il cosa fare e cosa non fare, le norme comportamentali e gli obblighi e i vieti in caso di ogni singolo momento di allerta dal giallo fino al rosso. Ci sarà anche l'intervento della protezione civile dal momento che ha promosso insieme al Comune l'iniziativa? Infatti daremo spazio anche ai protagonisti sul campo della protezione civile locale dando spazio a loro per spiegarci un po' come intervengono, come funziona la protezione civile in ambito locale e quindi farci capire che sono un aiuto importante da tenere in considerazione e come facciamo sempre. L'importante è anche da ricordare che ci sarà lo spazio dedicato all'approfondimento del sistema di allertamento sul Rupinaro che ci teniamo a dirsi e portiamo con fierezza il fatto che sia stato Chiavari uno dei primi comuni in Liguria a dotarsi di questi sistemi di allertamento con idrometri e pluviometri e con l'aiuto anche del Cima Regione Liguria abbiamo la possibilità di affinare un po' le soglie anche se siamo sempre in fase sperimentale. Questo convegno è stato ovviamente organizzato e previsto prima dell'ultimo evento così spaventoso come l'abbiamo vissuto per cui ci ha insegnato una cosa secondo me l'ultimo evento che noi guardavamo il fiume e il disastro è arrivato dall'altro quindi la protezione, il proteggersi va al di là dell'aspetto delle precipitazioni evidentemente. Naturalmente sì, noi per esperienza personale si tenta, e natura vuole, di difendersi dall'ultima cosa di cui abbiamo subito un danno, però in realtà quando si parla di protezione civile gli aspetti sono molteplici, il piano di emergenza di un comune per esempio contiene vari aspetti addirittura l'aspetto nivologico, le mareggiate, gli incendi, i terremoti, quindi gli aspetti sono molteplici, quello che è capitato nell'ultima allerta rossa riguardava un forte raffiche di vento che hanno sferzato con 120-140 km all'ora nella nostra costa e non solo e quindi hanno diciamo un po' spiazzato chi si aspettava un problema idrogeologico, comunque è piovuto anche abbastanza copiosamente, non a livello importante ma è piovuto anche la scorsa allerta rossa. Quindi ricordiamo l'appuntamento che è giovedì 20 alle ore 18 all'auditorium di Chiavari, l'invito è per tutti. Naturalmente vi aspettiamo numerosi, giovedì prossimo 20 di ottobre, auditorium Chiavari in piazza Matteotti, venite perché sarà molto interessante e sarà molto utile per rischiare di meno la prossima volta, essendo sempre più informati. Grazie per l'attenzione, a domani. Previsioni per domani, giovedì 20 ottobre. Cielo generalmente sereno o al più parzialmente nuvoloso a Ponente, mentre sul centro Levante ha densamenti nuvolosi più consistenti, dove saranno possibili anche deboli i rovesci. Venti moderati o a tratti forti della nord sul centro della regione, più deboli altrove. Mare poco mosso sotto costa, mosso o molto mosso al largo. Umidità su valori medio-alti. Le temperature previste sulla costa tra 16 e 19 gradi. Nell'entroterra tra 14 e 16 gradi.